Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Deborah Cuinimio, poliomopatia, motossicologia e in particolar modo, visto che sono la referente regionale per lo stop 5G delle Marche e la referente provinciale per ISDE, medici per l'ambiente, sono molto attenta a quello che riguarda tutta l'esposizione ai fattori inquinanti ambientali, in particolar modo le radiazioni elettromagnetiche che possono andare a influenzare negativamente la salute nostra, noi gli adulti, ma anche dei nostri piccoli, perché oltre ad essere un medico sono una giovane mamma, giovane o comunque neomamma e la preoccupazione nei confronti di quello che può essere l'impatto ambientale sulla loro salute è qualcosa che dovrebbe essere assolutamente molto condivisa, soprattutto da noi addetti alla salute, quindi noi operatori della salute e purtroppo ancora oggi non c'è una vera consapevolezza, non c'è una vera conoscenza di quelli che possono essere i danni nel momento in cui esponiamo un organismo in crescita, non soltanto a inquinanti come inquinanti inalatori, le polveri sottili, inquinanti che sono nell'acqua, l'arsenico, ma anche agli inquinanti che possono essere dovuti ai campi elettromagnetici e che purtroppo possono andare a impattare negativamente sul neurosviluppo del bambino. Ora nella nostra scuola verranno trattati diversi argomenti, tutti quelli che oggi nelle relazioni sono stati già presentati e si tratterà anche di tutta la problematica che riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici dei ragazzi, non soltanto per l'esposizione in sé, ma anche per l'utilizzo e il malutilizzo di dispositivi elettronici che spesso purtroppo si associa allo sviluppo di quella che viene chiamata la dipendenza digitale e che va a peggiorare ovviamente tutta la problematica che riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici in sé. Quindi durante la scuola affronteremo anche questo importante argomento che riguarda la gestione, la conoscenza da parte di noi genitori, da parte di noi operatori della problematica che riguarda anche lo sviluppo delle dipendenze e delle dipendenze digitali in particolare, il modo in cui poter approcciare questo tipo di problema e anche valutare, grazie anche all'utilizzo ad esempio della Strive, quindi di un'analisi di impatto epigenetico, valutare quali possono essere le integrazioni utili a supportare l'organismo dei nostri piccoli e dei nostri ragazzi a ottimizzare le proprie risorse di auto-riparazione e auto-guarigione. Quindi vi aspettiamo, se avete bisogno di informazioni potete sicuramente contattare la nostra segreteria che è sempre a disposizione.